Ci vuoi raccontare la tua storia professionale dall'inizio, dall'università? Mi sono laureata in chimica farmaceutica all'Università di Milano e poi sono andata in America all'Università di Miami per i miei studi di dottorato. Ho preso il PhD in chimica nel 2004 sotto la supervisione del professor Francisco Raimo. Dopodiché mi sono rientrata, tornata in Europa grazie a una Marie Curie. A questo punto sono andata alla scuola di fisica del Trinity College di Dublino e ho lavorato per tre anni in un campo completamente nuovo con i nanotubi a carbonio. Ho scritto un Marie Curie Reintegration Grant e sono rientrata in Italia e sono stata un anno all'Università di Trieste nel laboratorio del professor Maurizio Prato. Allo stesso tempo avevo mandato un proposal per un premio che si chiama President of Ireland Young Researcher Award e l'ho vinto. E con quello sono rientrata in Irlanda nel 2007 e grazie ai fondi della Science Foundation Island ho messo sul mio laboratorio nel centro di ricerca di nanotecnologie e niente, sono qua da cinque anni. Ci vuoi raccontare la tua ricerca? Volentieri. Noi ci occupiamo di sintetizzare molecole e materiali intelligenti, per esempio dei sensori molecolari oppure dei sistemi di rilascio di farmaci. L'idea è di sviluppare dei nuovi nanodispositivi che possano andare soltanto dove è necessario, per esempio nella cellula cancerogena, e soltanto lì rilasciare il farmaco. Per fare questo dobbiamo combinare chimica e nanotecnologia. Quindi è un ambito molto affascinante, molto nuovo. Per quale tipo di patologie queste applicazioni potrebbero... La prima è il cancro, quindi se riusciamo a disegnare il dispositivo che può andare soltanto sedativamente nelle cellule cancerogene e rilasciare soltanto lì il farmaco, questo sarebbe la cosa che vorremmo sviluppare. E quanto vicini siete a questo tipo di... Vicini? Difficile da dire. Abbiamo dei preliminari risultati che ci fanno sperare, però quanto tempo? Credo nei prossimi cinque anni. Fino a questo momento questi esperimenti sono stati condotti solo in vitro oppure c'è un... No, abbiamo fatto sì studi in vitro ma anche studi in vivo, sempre in collaborazione. Abbiamo cominciato a testare i nostri sistemi su dei modelli, dei tupini. E con i risultati? Promettenti, sì. Tu hai vinto da pochissimo un premio, che è il premio UNESCO L'Oreal. Ci vuoi raccontare che cos'è questo premio e perché l'hai vinto? Sì, allora il premio è appunto L'Oreal UNESCO, si chiama 4 women in science, ed è proprio per facilitare le donne in scienza. Quindi consiste in 15.000 sterline che possiamo utilizzare con una certa libertà d'azione, diciamo, per poter mandare avanti la nostra ricerca. Sicuramente un premio molto competitivo, infatti ci sono state più di 200 domande e alla premiazione qualche settimana fa a Londra l'abbiamo vinto in 4. Quindi ha dato sicuramente una grande visibilità, che è anche molto importante, soprattutto per donne in scienza. La domanda sorge spontanea. Perché è importante sostenere le donne nella scienza? È importante sostenere le donne nella scienza perché non ce ne sono tante. E spesso, diciamo, ci sono tante donne all'inizio della carriera accademica. Man mano si vede proprio dalle statistiche che il numero delle donne a livelli più alti delle posizioni universitarie, per esempio, sono sempre minori. Quindi ci vogliono, secondo me, dei fondi come questo dell'allora importante perché alcune donne che, non so, hanno dei bambini, possono utilizzare parte dei fondi per un day care. Quindi aiutano la donna a poter continuare a lavorare e avere tutti dei supporti. Quindi penso che sia una bella cosa che ci abbiano pensato. Una domanda successiva è, tu come donna hai avuto delle difficoltà nella scienza, nella tua carriera scientifica? Ma io sono una persona molto positiva, per cui diciamo che forse, soprattutto quando ero più giovane, alle prime conferenze, guardarmi intorno e vedere che spesso ero l'unica donna mi dava un pochino di difficoltà. Però l'ho, insomma, l'ho passata, quindi non... Tu sei una ricercatrice all'estero. Che cosa c'è in Italia che manca? Perché così tanti cervelli fuggono, come si dice? E perché c'è così tanta difficoltà poi a farli tornare indietro? Ma io penso che uno dei fattori principali siano i fondi, la mancanza di fondi per fare ricerca. Io avrei voluto tanto restare in Italia e ho sempre voglia di tornare in Italia perché è lì il mio cuore. Però il fondo che ho vinto consiste in un milione di euro, quindi fondamentalmente ho un grosso start-up. Quindi mi ha dato una possibilità incredibile che in Italia non vedo ancora. Non vedo fondi di queste entità a giovani ricercatori per iniziare a essere indipendenti. Lasciando da parte d'Italia la ricerca europea e la scienza europea, secondo te, di che cosa ha bisogno oggi? Di giovani. Infatti anche l'Unione Europea ha questi fondi, l'IRC per esempio, che premiano l'eccellenza sempre anche per giovani. Penso che sia molto importante che ci siano idee nuove, giovani e anche un pochino che persone che vogliano prendere dei rischi. Quindi per fare delle scoperte di un certo calibro bisogna rischiare. Quindi forse i giovani hanno più carica e si buttano un po' di più. Tu sei a questo proposito coinvolta in un'attività in Italia? Sì, proprio perché credo tantissimo nei giovani, qualche anno fa ho deciso di tornare alla mia scuola superiore. Ho cominciato all'inizio dando delle lezioni ai ragazzi di chimica e di nanotecnologie. E poi, grazie anche a un professore che mi ha molto sostenuto, ho inventato questo progetto che ho chiamato Mentoring Juniors. Per cui, grazie all'aiuto dei colleghi, abbiamo selezionato un gruppo di giovani molto motivati, di terza e quarta superiore, e mi incontro con loro ogni due o tre mesi e gli aiuto nei primi passi nel mondo della ricerca. Quindi gli insegno cosa vuol dire fare ricerca, qual è il mestiere del ricercatore e gli faccio fare delle ricerche. L'anno scorso gli ho fatto scegliere due tipi di temi, hanno scelto il cancro e l'energia e alla fine dell'anno li ho portati con me alle conferenze e li ho fatti presentare. Per cui, ragazzi delle superiori che già possono parlare davanti al grande pubblico della loro ricerca. Sono soddisfazioni enormi. Una studentessa l'ho portata anche qua all'ESOF a Dublino e ieri l'ho portata sul palco a parlare nella sezione careers con me. Quindi sono ragazzi veramente motivati. Devo dire che questo progetto è fuori dall'orario scolastico, quindi già fa capire quanto i ragazzi siano motivati, perché non sono obbligati, è completamente volontario, scelgono di farlo e si impegnano tantissimo.